Quattro squadre rimanenti, possibilmente sette partite per serie da giocare, siamo alle finale di conference dei playoff NHL 2024, tempo quindi anche per il recap sul canale come abbiamo fatto per il primo turno e ovviamente come faremo anche in questo secondo. Ancora una volta però non sono solo, ai microfoni Matthew Torgard in compagnia di... Ciao a tutti, sono Andrea, ciao Matteo, grazie per l'invito. Allora, per chi non lo sapesse, Andrea è l'admin della pagina Instagram di MLB Italia, nonché co-founder insieme a me, a Matteo Orso e a Max della pagina Instagram di Face of Italia, dove peraltro questo video verrà ripubblicato ed è di fatto una collaborazione per parlare di questi playoff. Playoff che sono arrivati, Andrea, in una finale di conference a Est e Ovest molto importante con tante squadre protagoniste. Da una parte a Ovest, Dallas Stars contro Edmonton Oilers, dall'altra parte Florida Panthers contro New York Rangers. Per capire però come sono arrivate queste squadre a questo punto, io direi di fare un recap partendo da Est su quelle che sono state le semifinali di conference. Quindi Florida Boston e New York Rangers Carolina a Est e Dallas Stars Colorado Avalanche a Ovest insieme a Vancouver Edmonton, che diciamo già è stata la serie più bella delle quattro. Concordo, concordo. Allora, partiamo dall'Est. I Florida Panthers battono in sei partite i Boston Bruins. Dico che in realtà me l'aspettavo, ma non troppo, nel senso che è stata una serie bellissima e Florida veramente sono fortissimi. Io non me li aspettavo così forti. Hanno fatto una regular season spaventosa, bisogna dirlo. Però non me l'aspettavo che riuscissero a performare così tanto contro Boston, che è una rivale importante, anche perché lo ricordavamo lo scorso video, che l'anno scorso hanno fatto il record di punti dalla storia dell'NCL. Eppure in sei partite sono riusciti a battere Boston. Kacciak ha fatto un po' quello che voleva, ha fatto parecchio incazzare tutta Boston, direi. Reinhardt ha giocato molto bene. Bobrovsky, la parata di Bobrovsky ha veramente fatto spavento. È sempre di più un portiere che fa la differenza. Quindi direi passaggio abbastanza meritato per i Florida Panthers. Dall'altra parte, invece, New York sembrava dovesse spazzare via Carolina e invece non è stato così. Dopo essere andati in vantaggio 3-0, gli Oreckens si sono un attimo svegliati e hanno recuperato. E alla fine è finita 4-2. Diciamo che i Rangers hanno salvato abbastanza la faccia con questa vittoria, perché da 3-0 a arrivare a 3-2 hanno rischiato non poco, direi. Diciamo che per quanto riguarda New York Rangers Carolina è passata la squadra che doveva passare, ma il pronostico secondo me è corretto. Magari non in questo modo, perché Carolina sappiamo essere comunque una buona squadra. Forse è più sorprendente Florida, ma Florida sappiamo che è un po' magari come Tampa Bay nel baseball. È quella classica squadra da playoff che arriva con il rush della regular season fatta un po' sonnecchiante. vede le statistiche di Kachak e poi dopo sono arrivati ai playoff e però vanno battuti questi. E infatti al momento sia Tampa Bay che la più quotata a Boston sono evidentemente andati al creatore dal punto di vista sportivo. I Rangers a Est li ho sempre in realtà impredictati per arrivare fino in fondo e la finale di conference secondo me è il minimo sindacale. Sì, diciamo di sì. Guarda, Florida secondo me adesso contro New York è una sfida veramente tra titani, perché sono due tra le migliori squadre in NHL. Ricordiamo che i New York Rangers hanno vinto il President Trophy, che per chi non lo sapesse è il trofeo riservato alla squadra che totalizza il maggior numero di punti nella stagione regolare. Diciamo che New York ha sudato più del previsto. Io mi aspettavo dopo il 3-0 ho detto Massimo Carolina gliene strappa magari una. Invece no, invece hanno vinto sia gara 4 che gara 5 e li hanno fatti sudare abbastanza. Tra l'altro gara 5 è vinta con abbastanza tosto 4-1 per New York. Allora da lì poi si sono un attimo rimessi in posizione e sono riusciti a vincere gara 6. Le finale di Contro e poi in realtà ne parliamo un attimo in separata sede perché da noi dobbiamo completare il quadro. Ora per chi non lo sapesse noi abbiamo creato da qualche settimana una pagina Instagram di Face of Italia dove per queste semifinale di conference io e Andre abbiamo scritto da una parte io dall'Ascolorado dall'altra parte Vancouver Edmonton che sono state due serie incredibili, incredibili al netto del puntito. Due serie da straccioni. Esatto, straccioni, giocatorini e giocate sensazionali. Possiamo dirlo, forse sono arrivate in finale le due squadre che ci aspettavano perché secondo me sì. Guarda, ti dico di sì, ci stanno perché Dallas è passata dopo una battaglia a Las Vegas in sette gare come tra l'altro tu avevi pronosticato e si è trovata dopo i campioni in 2023 e si è trovata i campioni in 2022 e li ha buttati fuori, quindi io non vorrei dire però Dallas ha buttato fuori gli ultimi due campioni. D'altro Dallas, ricordiamo, miglior squadra della regular season a Ovest, quindi comunque... non propriamente l'ultima delle arrivate come squadra. No, 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 ma va, ma è anni che comunque gli stars hanno un core di giocatori fantastici. Oettinger è fortissimo, un portiere pazzesco, dovete andarlo a vedere perché ha salvato Dallas in più occasioni. Aiskanen è praticamente il difensore con più gol all'attivo. Wyatt Johnson, cioè ce n'è di giocatori che hanno performato. Forse paradossalmente quello che ha performato un po' meno è stato Robertson. Sì, esatto. Ha fatto abbastanza bene, però ha fatto, se non sbaglio, un paio di gol. Ha fatto praticamente tutti i assist, però comunque ha il risultato importante per il risultato della serie. No, esatto. E Dallas passa 4-2. E Dallas ha aperto il fatto di avere un secondo, un terzo e un quarto violino, no? Perché tutti si aspettavano. Jason Robertson, che è una delle superstar statunitensi, peraltro, impreditati di fare molto bene. E invece Wyatt Johnson è stato secondo me l'MVP di questa serie, in particolare nella gara dove ha fatto tripletta. Sì, ha fatto tripletta. Ma Wyatt Johnson è forte comunque, è giovane, è di prospettiva. Io mi aspettavo Robertson in rampa di lancio, invece ha fatto comunque una buona serie. Però è stato meno incisivo sotto porta, è stato più di aiuto per i compagni. Va detto, comunque, a discolpa di Colorado, che gli è stato sospeso, praticamente fino a quel momento, quello che era il giocatore più in forma di tutti i play-off, Danny Chushkin. È stato sospeso per sei mesi per, non ho capito bene, tipo violazione della politica della Lega sulle sostanze, qualcosa del genere. Sì, insomma, è un po' la politica che c'è anche in MLB, che nel massimo della pena vieni sospeso per 180 partite, una stagione. Qui si va per tempo. Però qua volevo arrivare a una domanda che ti volevo fare. Quanto, secondo te, ha inciso l'assenza di Valerini Chushkin, che fino a quel momento aveva realizzato 9 gol in tutti i play-off? Ok, che le statistiche della prima serie sono state molto gonfiate, perché Colorado ha veramente overperformato dal punto di vista offensivo. Parlo della serie contro Winnipeg, vinta per 4-1. Però comunque, insomma, privarsi di Dini Chushkin, una squadra che comunque aveva tanti protagonisti, poteva essere potenzialmente un meno danno rispetto agli altri. Invece lo è stato. Ma la mia domanda è appunto per te quanto lo è stato in una percentuale da 1 a 10. Allora, su una scala da 1 a 10 io ti direi 8, perché comunque Colorado ha degli attaccanti straordinari. Mekin non è uno di questi, Rantanen lo sappiamo, Makar da difensore ha fatto il devasto ancora una volta. Ha fatto un gol bruttino anche a sto turno, Makar, tra l'altro. Sì, 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 ma vabbè, ma è troppo forte ragazzi, dovete andarvelo a vedere che è il Makar. E dicevo, su una scala da 1 a 10, Nichushkin è pesato 8, secondo me, perché fino a quel momento era lo scoring leader della squadra. 9 gol, comunque sono tanti. Alla fine è stato sospeso e nonostante tutto la prima partita con Nichushkin sospeso, Colorado l'ha vinta. Quindi però alla fine, secondo me, quando ti privi comunque di un giocatore ottimo come Nichushkin, alla fine ne vai a risentire. Poi Dallas comunque è uno squadrone, va riconosciuto anche questo. Sì, 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 insomma, non vinci la regular season ovest per caso, non butti fuori due campioni in carica consecutivi per caso, annetto che l'ultima gara l'ha vinta Dallas al secondo supplementare, cioè qualcosa di allucinante, una battaglia tiratissima che, insomma, poteva vincerla Colorado, invece l'ha vinta, secondo me, una squadra che a lungo andare, anche alla settima sarebbe passata, che affronterà, peraltro, gli Edmonton Oilers. E qua arriviamo alla serie di cui tu ti sei occupato sulla pagina Instagram di Face of Italia. Io dico sinceramente, sono contento per McDavid e per quel bel squadrone di Edmonton che finalmente è andato avanti, oltre al solito primo turno con i tuoi Los Angeles Kings, ma anche il derby canadese è stata una grandissima battaglia. Una vinciteggio doveva esserci, insomma, meritavano tutti e due il passaggio del turno, ma appunto ha vinto Edmonton in un'altra battaglia che si è appunto consumata questa notte. Esatto, guarda, per fortuna mi sono occupato io di questa serie. Delle quattro semifinali di conference me ne sono occupato io. E' l'unica serie che è andata a gara 7, tutte le altre tre sono finite a gara 6. E diciamo che gli Edmonton Oilers, dopo essere passati sopra il cadavere dei miei Los Angeles Kings, diciamo che hanno messo su una serie bruttina contro Vancouver. Io me l'aspettavo a gara 7, sinceramente. E' stata una serie bellissima, veramente. Ogni partita è attiratissima. Fino a gara 6, praticamente, hanno vinto... Fino a gara 6, sì, hanno vinto tutte per un gol di scarto. Prima ha vinto una, poi vinceva l'altra. Non ha mai vinto una spada due volte di fila, tranne stanotte. Quindi, secondo me, è la serie a mani basse di tutti i play-off, proprio in scioltezza. E lo sarà, secondo me, anche più delle due finali di conference. Diciamo che Vancouver ha giocato molto bene. Peccato che non è passata, mi dispiace. Purtroppo, giustamente, una ne deve passare. Però, secondo me, Vancouver avrebbe comunque meritato. Edmonton, sì, è passata. Sono contento per quei fenomeni là davanti. Anche se va detto che McDavid, in questi play-off, non sta segnando tantissimo. No, si sta concentrando molto più sugli assist. Annetto che, anche qui, faccio domanda molto simile. Se Colorado ha perso Nichuskin, Vancouver ha perso Brock Buser, che comunque è stato un protagonista assoluto di questi play-off per Vancouver. Anche lì, è un'assenza che ha inciso? E se sì, quanto? Allora, Buser è forte. Buser è molto forte. È stato il mattatore della serie anche con Nashville, ha fatto quello che voleva. Qui è pesato abbastanza, però diciamo che, più che Buser, Vancouver ha perso, tra virgolette, uno dei suoi migliori giocatori, che ha performato malissimo, che è Peterson. Ha giocato veramente male. Ha giocato veramente male. Non me l'aspettavo, perché dopo una stagione da 40 gol, praticamente, io mi aspettavo dei play-off in cui si consacrassi. Invece ha fatto una serie da 6 stirato. Perché sì, ha fatto qualche assist, ha fatto un paio di golletti, ma niente di troppo incisivo. Invece Edmonton ha sfruttato alla grande uno dei punti forti della propria rosa, che è il power play. Cioè, è uno degli aspetti del gioco su cui Edmonton performa meglio. Ha una media di power play tipo al 30%. Una squadra media si attesta attorno al 23-24%, quindi diciamo che hanno sfruttato molto questo fondamentale del gioco. E poi ha davanti quei tre che fanno quello che vogliono. Drey Sattel è leader in punti. Conor McDavid li è subito dietro in punti, ha fatto due gol, mi pare, ma ha fatto tipo 20 assist, una cosa del genere. E poi hanno trovato un punto forte, un punto cardine in Evan Bouchard, che è tipo il difensore con più gol all'attivo. Sì, sì, Bouchard che peraltro ha deciso gara 5, che io ho visto, gara peraltro anche questa incredibile, con il pareggio dei Canucks a un minuto dalla fine, e 30 secondi dopo il gol del 3-2 di Bouchard, che è specializzato dalla blu a tirare tendenzialmente forte e in gol, ma Bouchard è quello che ha deciso anche la Serie, vinta per 1-0 contro i Los Angeles Kings, la partita meglio, vinta per i Los Angeles Kings, gara 3, con quella situazione di power play. Secondo me infatti finora, pound for pound, secondo me Bouchard è l'MVP di Edmonton, perché sì, ok, dry saddle, importanti, gol e tutto il resto, però se tu vai a vedere le partite e come sono state decise le partite, Bouchard è quello che ha messo la firma in tutte, ha fatto gol importantissimi, ha fatto degli assist importantissimi, quindi secondo me pound for pound è lui il miglior giocatore di Edmonton, insieme a Zach Hyman, che per ora è lo scoring leader di tutti i playoff, ha fatto 11 gol, doppietta ripetizione, vabbè ma Hyman comunque si sa che è un grandissimo giocatore e poi è aiutato comunque da dei compagni di squadra, diciamo importanti. Peraltro Edmonton, che dunque si qualifica alle finali di conference, dove affronterà i Dallas Stars, dall'altra parte invece abbiamo un interessantissimo Florida-New York Region, sono entrambe partite serie, meglio, che possono andare lunghe entrambe, bisogna vedere quanto faranno i campioni di ogni singola squadra e qua è il momento che un po' ci piace, perché noi abbiamo sempre fatto pronostici e un pochino li abbiamo sminchiati, non come il baseball, diciamo che a sto giro li abbiamo beccati un po' di più rispetto ai progetti dell'MLB, ma di quello ne parliamo a ottobre. Come vedi, Florida-New York Rangers e Dallas Edmonton e soprattutto chi può essere il giocatore MVP della Fragging in caso di passato del turno, al netto che secondo me i Rangers sono più favoriti rispetto ai Florida Panthers, perché sono uno squadrone letteralmente, possono attingere da chiunque, da Zibane, Yad, a Kreider, a Panarin, hanno un grandioso portiere che è Igor Shesterkin, quindi insomma è tanta roba. Florida è più individualista, con Kachak, con invece Reinhardt. Cosa ne pensi, quantomeno per Est, poi parliamo dell'Ovest. Allora, secondo me questa è una serie che può tirare forse alla settima, ma forse alla settima no, magari finirà in sei probabilmente, però non mi stupirei se dovessero andare alla settima. Vedo New York anch'io leggermente favorita sui Panthers, perché sono veramente uno squadrone. Io durante la regola season qualcosa ho visto, ma ai playoff si sono esaltati tutti, Panarin è in forma smagliante. Zibanejad è fortissimo, il portiere Shesterkin lascia stare, perché secondo me ad oggi è il miglior portiere della Lega. Tra l'altro sconto tra grandi portieri e i russi, perché avremo Shesterkin contro Bobrovsky, quindi due portierini da due lire, diciamo. Sì, sì, proprio esatto. E quindi qua possono essere decisivi i portieri, perché possono salvare veramente la baracca. Secondo me Bobrovsky avrà molto da fare, perché l'attacco di New York è stellare, e secondo me ci saranno partite con una valanga di gol. Il power play dei Rangers può fare la differenza, secondo me, perché è più quadrato rispetto magari appunto a quello dei Panthers. Non mi aspetto partite difensive, nemmeno io. E se devo fare un pronostico per me, New York passa ma in sei, non arrivano alla settima. Ci sarà magari in mezzo alla serie qualche episodio che potrà evidentemente spostare gli equilibri, che magari è una penalità spesa male, oppure una deviazione sottoporta nel momento decisivo. Qualche partita supplementare io me l'aspetto. Magari le prime due gare potrebbero andare avanti. Può succedere di tutto, assolutamente. Mentre per dire, il pronostico simile, ma in favore della più forte, lo faccio dall'altra parte, perché secondo me Dallas è favorita su Edmonton e non andrà alla settima. Per quanto io tifi spudoratamente per la settima, mi ha dato a dire che finisce in sei anche questa. Per un motivo, è vero che Edmonton ha un attacco spaventoso, ma ha un grande bug, che è il portiere. Perché Edmonton storicamente basa tutto il suo gioco sul power play, sull'attacco, sulle tre stelle là davanti. L'anno scorso c'era tipo, se non sbaglio, New York Hopkins, no? Oltre a McDavid e a Drysaitl, ma è sempre mancato un portiere. Anche quest'anno ha giocato bene New York Hopkins. Sì, non è poi a livelli straordinari della stagione scorsa in regular season, però Stuart Skinner non benissimo, ha giocato meglio Connor Picard. Insomma, c'era Koskinen prima che andasse a Lugano, ma non erano dei portieri come Shestyorkin o come lo stesso Oettinger che possono fare la differenza. Quello potrebbe essere, secondo me, l'unico baco di questa bella squadra che è Edmonton, che però per vincere deve fare almeno 3-4 gol a partita, altrimenti vedo Dallas favorita. Sì, guarda, questa serie, per quanto io speri in Edmonton che riesca ad andare in Stanley Cup e a vincerla, perché secondo me vedere chiudere comunque McDavid senza una Stanley Cup in bacheca è un crimine. Vabbè che è ancora giovane in realtà, quindi ha tutto il tempo del mondo. Però diciamo che andarci così vicino e non vincerla per uno come lui già adesso, secondo me è già tosta. Dipende da come si comporteranno i portieri, come hai detto tu, perché Skinner così così... Cioè diciamo che Dallas ha un portiere e Edmonton nee, nel senso che Oettinger è fortissimo, ha salvato la baracca più volte e Stuart Skinner è un portiere, meh, Picard ha giocato abbastanza bene, però non sono comunque due fenomeni come per due... cioè già che cambi portiere ai playoff vuol dire che non hai una figura stabile come lo sono stati Cestyorkin oppure Bobrovsky, Oettinger, Giorgio per Colorado, per dire... Sì, sì, il portiere fa sempre la differenza ovviamente, cioè come quando... io parlo da tifoso Penguins, quando sono stati vinti le due Stanley Cup consecutive nelle stage nel 17, cioè c'era l'alternanza del regular season Murray-Fleury, però nei playoff giocava sempre solo Murray, anche se Murray non era così tanto quotato, ma la continuità fa tantissimo, ecco, quindi quello effettivamente è un punto a sfavore. Poi, oh, magari Edmonton vince 4-0 contro Dallas facendo il 50% dei gol in power play e ci abbracciamo forte, però sulla carta non vedo questo punto di forza per Edmonton. No, sono d'accordo, guarda, Edmonton anche nella serie contro Vancouver ha faticato molto perché tante partite sono finite tirate perché comunque il portiere conta tanto e diciamo che Vancouver ne aveva uno e Edmonton non tanto, nel senso che Shilovs ha fatto una post-season clamorosa, tra l'altro ragazzo giovanissimo, andate a seguirlo perché l'anno prossimo secondo me riuscirà a giocare di più dietro Demko che era infortunato e ha fatto una post-season veramente fantastica. invece Skinner e Picard hanno mantenuto delle performance un po' così così. Quindi la differenza secondo me si farà in port. Quindi alla fine anche tu convieni sul fatto che chi vince passa in 6. Sì, sì, su quello sono sicuramente convinto. Io do un 55% di possibilità a Dallas e a Edmonton il 45%, però secondo me chi passa passa in 6. Sì, sì, sono convinto di questo. Quindi vedremo se avremo azzercato i pronostici per il prossimo recap che ricordiamo anche agli amici ascoltatori che sarà di fatto prima della stalla recap in pieno stile World Series come succede nella MLB. Quindi tempo per fare un po' di recap. Questo appunto è un video fatto in collaborazione con la nostra pagina Instagram di Face of Italia quindi mi raccomando il link in descrizione. Per quanto mi riguarda quindi sul mio canale ci sarà anche l'appuntamento con il baseball nel recapone di giugno il primo di giugno alle ore 19 parleremo del secondo mesi di regular season pre-stalla recap sempre con Andre avremo il ultimo recap diciamo pre-finale di Stanley Cup con l'Ok poi appunto ci sarà l'appuntamento conclusivo spero con tutti insieme a questo punto post-stalla recap per commentare questo primo esperimento di video appunto a tema playoff NHL sul stesso format diciamo dei playoff MLB quindi grazie Andre per aver partecipato sempre un onore e un privilegio grazie a te Teo e volevo solo fare un po' di spam per quanto mi riguarda legittimo e dove via esatto come ha detto Teo in partenza io sono l'administratore di MLB Italia su Instagram MLB doppio underscore Italia e abbiamo da un po' superato i mille follower c'è un po' di tutto baseball storie libri sul baseball statistiche reel compagnia cantante ci sono anche i direttori dove io sono protagonista insieme anche agli altri ragazzi quindi insomma quelli per lo star game arrivano eh ragazzi cioè torneranno a tempo debito quello torneranno a tempo debito di solito si facciamo delle dirette io e il buon doc che è qui presente insieme a Puma Z che è uno youtuber che parla di baseball e l'amministratore l'amministratore della pagina media battuta su Instagram ciao Teo che scrive peraltro anche il suo Face of Italia lui si è occupato di Keynes contro Rangers quindi andate tutti a recuperare i post insomma vi aspettiamo anche lì e niente poi seguiteci sulla pagina Face of Italia appunto io e Matteo e Orso e Max scriviamo di tutte le serie dell'Hockey dell'Hockey americano adesso stiamo seguendo seguiremo le finali di conference poi seguiremo la Stelle Cup e speriamo di riuscire a fare un video tutti insieme la Stelle Cup finita dai vediamo esatto quindi appuntamento a presto intanto con tutti i nostri recap sullo Sport USA quindi ovviamente rimettete sempre sionizzati il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo a un prossimo video